Dal libro dell'Esodo In quei giorni, gli israeliti partirono da Ramses, alla volta di Sukkot, in numero di 600.000 uomini adulti, senza contare i bambini. Inoltre, una grande massa di gente promiscua partì con loro, egregi e armenti, in mandri molto grandi. Fecero cuocere la pasta che avevano portato dall'Egitto in forma di focacce azime, perché non era lievitata. Infatti, erano stati scacciati dall'Egitto e non avevano potuto indugiare. Neppure si erano procurati provviste per il viaggio. La permanenza degli israeliti in Egitto fu di 430 anni. Al termine dei 430 anni, proprio in quel giorno, tutte le schiere del Signore uscirono dall'Egitto. Notte di veglia fu questa per il Signore, per fargli uscire dalla terra d'Egitto. Questa sarà una notte di veglia, in onore del Signore, per tutti gli israeliti, di generazione in generazione. Il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore perché è buono. Nella nostra umillazione si è ricordato di noi, ci ha liberati dai nostri avversari. Il suo amore è per sempre. Colpì l'Egitto nei suoi primogeniti. Da quella terra fece uscire Israele, con mano potente e braccio teso. Il suo amore è per sempre. Divise il Mar Rosso in due parti. In mezzo fece passare Israele. Vi travolse il Faraone e il suo esercito. Il suo amore è per sempre. Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo, i farisei uscirono e tenero consiglio contro Gesù per farlo morire. Gesù però, avendolo saputo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed Egli li guarì tutti e impose loro di non divulgarlo perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia. Ecco il mio servo che io ho scelto. Il mio amato nel quale ho posto il mio compiacimento. Porrò il mio spirito sopra di lui e annuncerà alle nazioni la giustizia. Non contesterà né griderà né si udrà nelle piazze la sua voce. Non spezzerà una canna già incrinata. Non spegnerà una fiamma smorta. finché non abbia fatto trionfare la giustizia. Nel suo nome spereranno le nazioni.